Sulla panchina, sei largina, andiamo la palla al centro e D'Angelo che salta a Sprua, passaggio sotto a Makurat, sotto mano a Sprua da fuori, Paolocci, valla ancora Pompei al desrotto, ancora lei che prova a buttarsi dentro e va a colpire. Sprua va dentro, si riparte, ancora avanti e ancora a canestro, Makurat, 7 secondi, prova lei da lontanissimo e fa canestro, 7 secondi ancora a impostare il gioco, Stroscio, ancora Granzotto, deve tirare, Granzotto e fa canestro, 2 contro 4, il contropiede, Stroscio, l'errore e poi... Ballone per Asperua e va a... Stroscio e poi palleggio e poi Granzotto che ruba tutto e va a... chiudere... Asperua allo scadere del terzo periodo, Stroscio a canestro... Asperua... Asperua... Ancora Pompei... Ancora Pompei... Paolocci... E Stroscio... Ancora ruba il pallone Boric... Stroscio, tutte da quel lato a difendere... Deve tirare... Stroscio... Stroscio... Ancora Stroscio... Si butta dentro... Trova il pallone... Un pay... Nell'angolo... Ancora il pallone che va fuori... Scarpato... E per questo... Più bella... Un pay... Un pay... Un pay... Un pay... Un pay... Centro...